Giuliano Gandolfi, Piccardo TV, siamo con Nicola Picchi, dopo questa partita recupero serale della gara contro San Secondo, un'ottima prestazione, una buona risposta della squadra dopo la gara sfortunata di Domenico Monticelli, riproposto anche in un ruolo un po' inedito per questa stagione a centrocampo, quali sono le tue impressioni della serata? Venivamo da una partita domenica dove abbiamo lasciato sul campo tre punti e quindi l'unico modo per rifarci era fare una grande prestazione, una grande partita e oggi è arrivata, penso che oggi il risultato sia evidente e dobbiamo affrontare tutte le partite da qui alla fine con questa cattiveria. Anche marcatore di serata, ha fatto anche un assist, se non ricordo male, ho perso un po' il conto, domenica abbiamo una partita contro Castenovese, ultima in classifica, però stasera ha vinto Marzolara, come ci prepariamo poi anche per le prossime partite? Siamo a tre punti dalla prima in classifica, come ci prepariamo? Ma dobbiamo prepararci pensando partita dopo partita, questo qua è un campionato strano dove nel girone di ritorno anche quelle di bassa classifica cercano sempre di strapparti un punticino perché comunque cercano di salvarsi, quindi anche domenica dobbiamo stare qui con la testa senza pensare di essere chissà cosa, anche perché non abbiamo vinto niente ancora e quindi per arrivare fino in fondo bisogna impegnarsi ed essere molto umili. Stasera hai segnato un gol, a chi lo dedichi questo gol? Allora intanto un e mezzo secondo me, scherzi a parte lo voglio dedicare a mia moglie e alla nuova arrivata Nina che sono diventato papà a dicembre quindi lo dedico a loro due. Complimenti anche papà! Grazie!